Buonasera, un camion distrutto, due auto danneggiato, una palazzina temporaneamente evacuata ed una persona in ospedale per l'intossicazione. Questo è il bilancio di un incendio divampato questa notte a San Bartolomeo al mare. Vediamo le immagini. Momenti di paura. Questa notte a San Bartolomeo al mare era da poco passata l'una e mezza quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Diano Marina, in transito sull'Aurelia, ha visto un incendio divampato su un camion parcheggiato a bordo strada in via Roma. Immediato l'allarme ai vigili del fuoco, che giunti sul posto hanno spento le fiamme. La zona è stata subito isolata e messa in sicurezza durante l'intervento. Il mezzo, adibito al trasporto di frutta e verdura, è andato completamente distrutto. Danneggiate anche due autovetture che si trovavano posteggiate a poca distanza. Temporaneamente evacuati dai carabinieri anche gli abitanti della diacente palazzina minacciata dal fuoco. Una persona è rimasta leggermente intossicata ed è stata trasportata all'ospedale dal 118. Sono ora in corso le indagini sull'incendio, di probabile origine dolosa. Nuovo maxi sequestro di merce contraffatto da parte della Guardia di Finanza di Genova. Le fiamme gialle hanno scoperto un altro laboratorio clandestino nel centro storico genovese, particolare in un servizio. La Guardia di Finanza di Genova ha scoperto un altro laboratorio clandestino nel centro storico della città della Lanterna. È così scattato un blitz che ha portato al sequestro di oltre mille indumenti e accessori contraffatti con i marchi delle più importanti case di moda. La merce era custodita all'interno di un appartamento nel centro storico di Genova, adibito al laboratorio per il confezionamento dei capi. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato attrezzi per la fabbricazione, in particolare macchine da cucire e telai. Due le persone denunciate dalla Guardia di Finanza genovese, si tratta di due africani colti in flagrante mentre stavano preparando la merce per la successiva vendita. Proprio in questi giorni, fra l'altro, i militari della Guardia di Finanza di Genova hanno distrutto all'inceneritore di Montale una tonnellata di abiti e accessori falsi che erano stati sequestrati in precedenti servizi, alcuni dei quali messi in atto proprio nel centro storico genovese. La giunta Toti non ha fatto nulla per promuovere il marchio Liguria Gourmet, uno strumento importante per il turismo, la promozione dei prodotti tipici e la filiera a chilometri zero. La denuncia arriva dal consigliere regionale del PD, Giovanni Barbagallo, che in merito ha presentato un'interrogazione in consiglio regionale. Vediamo. La giunta Toti non ha fatto nulla per promuovere il marchio Liguria Gourmet, uno strumento importante per il turismo, la promozione dei prodotti tipici e la filiera a chilometri zero. A denunciarlo è il consigliere regionale del PD, Giovanni Barbagallo, primo firmatario di un'interrogazione presentata in consiglio regionale insieme al resto del gruppo del PD. Il marchio Liguria Gourmet, precisa Barbagallo, è frutto del lavoro sinergico del sistema delle Camere di Commercio di Union Camere Liguria con associazioni di categorie e con la passata giunta regionale e identifica per i locali adibiti alla ristorazione che lo espongono direttamente i ristoranti e gli alberghi dotati di un menù conforme alla tradizione enogastronomica regionale che assicura qualità e territorialità dei prodotti utilizzati, favorendo agricoltura e allavamento locale. I numeri delle adesioni sono però insoddisfacenti e il problema, secondo Barbagallo, è il mancato lavoro di promozione da parte della giunta che forse, a detta di Barbagallo, non crede abbastanza in un progetto che a costo zero può rappresentare un volano importante per l'economia turistica. Il Comune d'Imperia ha già incassato 250 mila euro in più rispetto alle previsioni grazie alle multe dei vincili. Un aspetto che ieri sera in Consiglio Comunale ha diviso ulteriormente la maggioranza. Il parlamentino ha approvato la variazione di bilancio e anche il nuovo regolamento per gli impianti sportivi. Vediamo. Il Consiglio Comunale d'Imperia ha approdato una variazione di bilancio per 250 mila euro di introiti in più rispetto al previsto riferiti alle multe fatte dalla Polizia Municipale. Un aspetto che se da un lato serve a rimpinguare le casse comunali, dall'altro lato ha creato non poche polemiche da parte dell'opposizione e anche di alcuni esponenti della maggioranza che non ritengono corretto fare cassa sulle spalle dei cittadini. In ogni caso la variazione è stata approvata e il denaro sarà destinato per oltre 50 mila euro alla manutenzione del verde pubblico, altri 3 mila euro per la retribuzione del personale dei cimiteri, 59 mila e 500 euro per la manutenzione degli asfalti e ancora 100 mila euro al fondo crediti di dubbia esigibilità, 19 mila euro per la derattizzazione e 12 mila per l'acquisto di beni. Sempre ieri sera il parlamentino imperiese ha anche approvato a maggioranza il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali. Tra le novità anche la possibilità per i cani di accedere alle zone riservate al pubblico grazie all'emendamento presentato dal gruppo Imperia Cambia. Per predisporre gli articoli del regolamento sono state coinvolte anche le società sportive. Il Partito Democratico d'Imperia si è schierato a sostegno del vice sindaco Giuseppe Zagarella a seguito del suo coinvolgimento in un'indagine per pedopornografia che riguarda un suo ex collega dello studio professionale. Il PD anche non ha resinato un'aspettante stoccata al sindaco che aveva chiesto un passo indietro da parte di Zagarella. Sentiamo. Il Partito Democratico d'Imperia unitamente al gruppo consigliare ritiene che la vicenda relativa al coinvolgimento del vice sindaco Giuseppe Zagarella in un'inchiesta sull'utilizzo di materiale pedopornografico dovrà essere chiarita dalla magistratura nella quale ripone come sempre massima fiducia. Così si legge in una nota del PD imperiese che esprime solidarietà umana e politica al compagno di partito. Per quanto riguarda il suo ruolo in giunta, messo in discussione dal sindaco Carlo Capacci, il PD ribadisce il proprio credo garantista e ricorda che anche il sindaco è stato accusato di maltrattamenti in famiglia e poi assolto e ha ora un processo in corso per evasione fiscale. Il PD evidenzia quindi che dimissioni e passi indietro avverranno eventualmente, tanto per Zagarella che per Capacci, a processi conclusi. Giro tra i banchi del mercato annonario a Sanremo stamani da parte del sindaco Alberto Bianchieri che ha raccolto tutte le rimostranze dei gestori e degli utenti. In particolare sono stati chiesti lavori di manutenzione, un potenziamento dei punti luce, la riparazione della sala cinesca difettosa e un rifacimento di porte, bagni e pavimentazione. Sentiamo. Blizza il mercato annonario di Sanremo del sindaco Alberto Bianchieri che stamani molto presto ha fatto un giro tra i banchi della frutta e della verdura, ascoltando in particolar modo le richieste dei gestori. Anche diversi clienti che al momento del giro di Bianchieri si trovavano in zona hanno voluto esprimere le proprie contrarietà al primo cittadino. Bianchieri è stato affiancato dall'assessore Barbara Biale e da due dirigenti comunali guidati nella visita dal responsabile del mercato barale. Bianchieri ha raccolto le diverse ragioni legate alla struttura per cercare di andare incontro agli esercenti e ottimizzare l'edificio al meglio e renderlo più ospitale ai frequentatori. Il primo cittadino per affrontare le spese conta su un'apertura del patto di stabilità, in maniera di poter svincolare alcuni investimenti. Come da tempo i commercianti chiedono, serve al più presto eseguire importanti lavori di manutenzione, dai punti luce che andrebbero potenziati alla sara cinesca ancora difettosa, alle porte, i bagni e anche la pavimentazione, come più volte vi abbiamo già mostrato. Quindi serve ottimizzare un edificio faticente, ma che nei giorni di svolgimento del mercato bisettimanale al sabato e al martedì ricopre una funzione principale dal punto di vista non solo commerciale, ma anche turistico. Dalle prime ore dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato contro la Federazione Anarchica Informale. La Digos di Torino sta dando esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare con il contributo operativo della Digos di Pescara, Roma e Viterbo. Nell'ambito della vasta operazione, i poliziotti con l'ausilio di unità cinofile anti-esplosivo hanno sottoposto a perquisizione oltre 30 anarchici e 29 abitazioni rislocati in Piemonte, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Abruzzo, Campania e Umbria. Agli anarchici vengono contestati diversi attentati dinamitardi compiuti negli anni scorsi e il ferimento a Genova nel 2012 di Roberto Di Norti, amministratore delegato di Ansaldo Nucleare. A seguito delle analisi dell'ARPAL su campioni di acqua di mare, il sindaco di Imperia Carlo Capaci ha firmato oggi il divieto di balneazione per il tratto di mare, compreso tra l'aggine destro del torrente Caramagna e il molo delle Ratteghe. Il divieto permarrà fino a quando nuove analisi non certificheranno il rientro nel limite della presenza dei colibatteri. Un incendio boschivo è scoppiato nella mattinata di oggi in località Verezzo San Donato nei pressi di strada spaziante sulle alture di Sanremo. Le fiamme alimentate dal vento sono arrivate a lambire anche alcune abitazioni. Alle operazioni di spegnimento coordinate dal corpo forestale hanno preso parte anche volontari della protezione civile, vigili del fuoco e due elicotteri del servizio antincendio genovese. Finale di stagione sfortunato per l'imperiesi Antonio Marzo, protagonista anche quest'anno del campionato italiano NACD 600 di motociclismo. Accentavano infatti rimasto coinvolto in un incidente durante il Cipi del Mugello che lo obbligherà ad un riposo forzato per i prossimi tre mesi. Per Marzo che si trovava in testa della classifica con 30 punti di vantaggio sui diretti avversari, il campionato si è quindi purtroppo concluso. Anzi, tempo. In questi giorni l'amministrazione comunale di Ventimiglia richiesto un intervento di verifiche e controlli sul territorio cittadino, con particolare attenzione alla zona del fiume Roia dove era stata riscontrata la presenza di rifiuti, manufatti e folta vegetazione. Si è così approntato un programma per riportare l'area alla sua naturale bellezza. Oggi la Polizia Municipale, congiuntamente al commissariato, è intervenuta nell'alveo. Gli agenti hanno eliminato alcuni accampamenti abusivi sulla foce del fiume Roia e sul lato levante del ponte Cassini. Dopodiché la ditta appaltatrice, responsabile del servizio di raccolta dei rifiuti, ha iniziato l'opera di pulizia delle due aree. A Sanremo i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Luca Lombardi e Gianni Barrino, hanno presentato un'interpellanza sulla questione degli impianti sportivi. Dopo infatti aver appreso che nell'ambito della convention Rai Comune potrebbe per il secondo anno consecutivo venire affidato il padiglione Ormon per la realizzazione di spettacoli televisivi collegati al festival, ci si domanda se si procederà nuovamente con uno spostamento delle società sportive. L'interpellanza prende spunto dal disagio e dalle tensioni già create quest'anno. Viene infatti chiesto quale cifra sia stata deliberata per gli spostamenti e quali siano gli spazi che verranno messi a disposizione delle associazioni sportive. Facciamo una breve pausa, ci sentiamo tra poco. E fermo negli ultimi preparativi in Calata Anselmia ed Imperia Porto Maurizio che da domani ospiterà il raduno delle vele d'epoca che quest'anno festeggia i suoi 30 anni. In banchina come sempre anche Imperia TV per raccontare i momenti salienti della manifestazione. Vediamo. E ormai è quasi tutto pronto per l'edizione dei 30 anni del raduno di vele d'epoca d'Imperia. In Calata Anselmia Porto Maurizio vengono dati gli ultimi ritocchi agli stand istituzionali al palco degli spettacoli dal quale alle 17.30 di mercoledì sarà dato il via ufficiale alla manifestazione, orario che coinciderà con il primo dei collegamenti in diretta che come sempre Imperia TV effettuerà per portare l'evento nelle case della gente. Le signore del mare iscritte alla tappa imperiese del trofeo Panerai di quest'anno sono già 75 ma altre ne sono attese nelle ultime ore e si arriverà quindi a sfiorare quota 80. Madrine dell'evento saranno Giulia Emolo e Giulia Gorlero, attaccante e portiere del Sette Rosa da poco tornati dalle Olimpiadi di Rio con al collo la medaglia d'argento. Molte le vele presenti che erano a Imperia anche per la prima edizione del raduno del 1986. Si tratta di Alzavola, Caroli, Mariette e Vistona. Già all'ormeggio da alcuni giorni anche Ailin, il catch bermudiano datato 1936 di proprietà di officine Panerai ed Emilia classe 1930. Le regate punto centrale del raduno quest'anno saranno organizzate e gestite dallo Yacht Club Imperia e dal Porto Maurizio Yacht Club. La sicurezza dei partecipanti sarà invece garantita come sempre dalla Capitaneria di Porto presente con le sue motovedette che coordinerà anche gli interventi dell'idroambulanza Gianni Cozzi della Protezione Civile Santissima Trinità. Negli ultimi giorni sono state compiute manovre di concerto con Croce Bianca e Croce Rossa proprio per affinare le tecniche di intervento e trasbordo di pazienti e garantire così la massima efficienza possibile. Poste Italiane partecipa con due annulli filatelici alla trentesima edizione di Vele d'Epoca ed Imperia in programma appunto da domani a domenica. Promossi da Astronautica Imperia, gli annulli filatelici potranno essere richiesti presso lo stand allestito in Calatanselmi venerdì e sabato dalle 16 alle 23. Con gli annulli sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente allo sportello. E tra gli eventi di contorno a raduno di Vele d'Epoca anche il concorso internazionale di decorazioni floreali è giunta alla sua ottava edizione. Il tema generale scelto quest'anno dalla sezione imperiesi dell'Internazionale Decorazione Floreale è il mare. Sono previste cinque categorie per ognuna delle quali sono in palio prestigiosi premi e speciali menzioni. L'esposizione delle opere partecipanti sarà allestita presso il nuovo Museo Navale di Via Scarincio e sarà visitabile sabato 10 settembre dalle 17.30 alle 22.30 e domenica 11 dalle 10 alle 22.00. Torna domenica la tradizionale mostra venatoria di Anomarina. La rassegna organizzata dalla sezione intercomunale Cacciatori di Anomarina, Cervo e San Bartolomeo si svolgerà il largo cambiaso e proporrà al pubblico animali da caccia e da cortile ed esodici oltre ad articoli per l'agricoltura e mangimi e ancora gare di canto. Sentiamo. È giunta la 62esima edizione, la tradizionale mostra venatoria di Diano Marina organizzata dalla sezione intercomunale di Diano, Cervo e San Bartolomeo e Vallate della Federazione Italiana della Caccia. L'appuntamento è per domenica 11 settembre e come sembra in largo cambiaso. La mostra proporrà al pubblico animali da caccia, da cortile ed accompagnia, canarini, volatili da richiamo e esotici e ancora piante e macchinari per l'agricoltura. Un'apposita giuria segnerà poi i premi per il miglior chioccolo e canto, il miglior merlo, tordo e cesena. Premi speciali sono poi previsti per gli uccelli esotici e quelli da richiamo. La mostra venatoria di Diano Marina resterà aperta tutta la giornata, di domenica. Gli sportivi liguri, i protagonisti delle recenti Olimpiadi in Brasile, saranno festeggiati in occasione di una cerimonia ufficiale in programma a Genova il prossimo 21 settembre. Fra loro ci saranno anche le imperiesi Giulia Emoli e Giulia Gorler, medaglia d'argento nella pallonuoto femminile. Vediamo. Mercoledì 21 settembre alle ore 15 presso la Sala Trasparenza della Regione a Genova si terrà una cerimonia in onore di tutti gli atleti liguri che hanno partecipato alle recenti Olimpiadi in Brasile. Un'edizione che ha registrato un grande successo del mondo dello sport ligure che è risultato protagonista ai giochi di Rio. In totale sono 28 gli atleti che hanno preso parte a queste Olimpiadi, di cui 8 quelli che sono saliti sul podio, con 6 argenti e 2 bronzi, per un totale di 7 specialità rappresentate, il nuoto sincronizzato, la pallonuoto femminile, la pallonuoto maschile, la scherma, gli sport paralimpici, il tennis e la vela. Tra di loro ci saranno quindi anche le imperiesi Giulia Emolo e Giulia Gorlero, medaglia d'argento nella pallonuoto femminile. La cerimonia per festeggiare i risultati ottenuti ed il grande impegno dimostrato dalla squadra ligure è stata voluta dal presidente della regione Giovanni Totti e dall'assessore regionale allo sport Ilaria Cavo. Saranno presenti anche le massime autorità federali e paralimpiche liguri. Insieme agli sportivi e agli atleti paralimpici che stanno ancora disputando le gare saranno presenti alla festa gli arbitri, gli allenatori, i medici, i rappresentanti del CONI e tutti coloro che hanno reso possibile il grande risultato. Un bottino ricco che è valso alla Liguria il terzo posto nel medagliere nazionale delle regioni e che, rapportato alla popolazione, diventa primo. E si è svolta da Renzano la due giorni di festeggiamenti per la solennità annuale del bambino Gesù di Praga, una tradizione giunta all'edizione numero 108. Vediamo. E' stato un fine settimana coinvolgente ad Renzano, con una grande affluenza registrata da tutta Italia per la solennità annuale del bambino Gesù di Praga, una tradizione che si rinnova per la 108esima edizione a cura dei frati carmelitani scalzi. La statuetta arrivò dalla Spagna a Praga e nel 1628 fu donata ai frati carmelitani della principessa Polissena. Ad Renzano arrivò nel 1900. Oggi la devozione a Gesù Bambino di Praga ha proprio ad Renzano il suo centro di diffusione. Il programma delle celebrazioni ha visto nella mattinata di sabato il bacio a Gesù Bambino e nel pomeriggio la benedizione dei bambini impartita da padre Michele, rettore del santuario. In tantissimi hanno gremito il piazzale della Basilica per affidare al bambino i propri figli, ma anche venuti appositamente per chiedere il dono di un figlio o per ringraziare dei figli tanto desiderati e finalmente da poco arrivati. Nella serata di sabato la processione, aperta dagli storici cristi della confraternita di Santa Chiara, gli alpini hanno portato in trionfo la cassa infiorata. Sul molo cittadino, nelle parole del sindaco Maria Luisa Biorci, è emersa l'emozione per una giornata splendida per Renzano intitolata Città di Gesù Bambino nel 2000. Suggestiva la processione in mare con la benedizione delle barche dal porto di Renzano fino alla località Pizzo, con i pescatori che hanno imbarcato il bambino di Praga per ricevere una benedizione sul loro mare e sul loro lavoro che si tramanda ancora di padre in figlio. Emozionante la preghiera del pescatore recitata in mare. A guidare la cerimonia sono stati la direzione marittima della Liguria, della Guardia Costiera e gli equipaggi della motovedetta dei Carabinieri. Durante tutta la notte, tra sabato e domenica, il santuario è rimasto aperto per una veglia notturna di preghiera fino alla Messa dell'Aurora alle ore 4. La festa si è conclusa con il concerto dell'organo restaurato inaugurato dal maestro Fausto Caporali. Ora, domenica prossima, ci sarà la giornata del ringraziamento da parte di tutti gli arensanesi in ricordo della protezione ricevuta da Gesù Bambino. E ad una settimana dall'arrivo degli studenti da Ruffini d'Imperia, Melbourne in Australia, il bilancio appare più che soddisfacente. Tutti i ragazzi e le ragazze sono entusiasti dell'esperienza. La delegazione italiana è stata accorta in due collegi e i ragazzi in periodi sono ospiti presso famiglie. Ora la delegazione si prepara per un'ultima settimana di permanenza appunto a Melbourne. Vediamo gli appuntamenti di Riviera 20, l'Auto of Tiori e il Quadro Meteo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non sono segnalati i cantieri di particolare rilievo lungo il tracciato di competenza dell'autostrada dei Fiori da Savona al confine di Stato. Potrebbero comunque essere presenti i cantieri per interventi minori e si invita pertanto a prestare attenzione alle segnalazioni che si incontrano lungo la careggiata e a quanto indicato dai pannelli informativi a messaggio variabile. È inoltre a disposizione il sito www.autostradadeifiori.it Andiamo al Quadro Meteo con ARPA alla Meteo Liguria. Le previsioni per domani, mercoledì 7 settembre. giornata in prevalenza soleggiata, locali addensamenti in particolare nelle ore più calde della giornata, sui rilievi e sui versanti padani. Umedità su valori bassi, venti forti da nord a nord-est, con locali raffiche fino a 60-70 km orari, soprattutto sui capi, allo sbocco delle valli e sui rilievi. Parziale diminuzione in serata. Il mare è da mosso a poco mosso a Levante, tramosso e molto mosso a Ponente, localmente agitato a largo su parte occidentale, in calo dal pomeriggio. La protezione civile segnala nella prima parte della giornata venti da nord, tra forti e burrasca, anche rafficati, in calo in serata. Dopodomani, giovedì 8 settembre, sereno o poco nuvoloso, con ventilazione settentrionale, ancora sostenuta al mattino e successiva diminuzione del pomeriggio. Umedità su valori medio-bassi, venti in prevalenza da nord a nord-est, tra moderati e forti al mattino, in diminuzione dal pomeriggio. Il mare è da mosso a poco mosso a Ponente, tra poco mosso e quasi calmo a Levante. E con il meteo chiudiamo anche il nostro giornale, dandovi appuntamento alle prossime edizioni, se volete sul nostro sito imperiettv.it. Grazie dell'ascolto, buona serata. Grazie a tutti.